Ciao, qui Liprandi e oggi salutiamo Abbe Saudad, Giuseppe Brunno e The Crazy Guy. E salutiamo anche chi ci ha richiesto questo video. È stato richiesto da Mari Zanirati, che è una mamma, lo voleva per i suoi figli e non si può dire di no ad una mamma. Perciò ecco qui due bustine di meduse e polpi, edizione gigante. Infatti queste bustine sono veramente grandi, costano 3,50€ ma devo ammettere che sono proprio grosse e sono prodotte da Sbabam, quindi gli stessi che producono lo slime melmito. In ogni bustina troviamo un animale gigante ed un mini book. Vediamo qua dietro, non mi sembra che ci siano altre informazioni che ci possano interessare e ci sono disegni di meduse e di polpi che io non conosco, quindi magari impariamo anche qualcosa su questi particolari animali. Io ne so pochissimo, so solo che il polpo in realtà è un animale molto intelligente. Allora, direi che non dovremmo trovare doppioni perché questa bustina è molto più gonfia di quest'altra, quindi si spera proprio che siano diverse. Allora, apriamo la nostra prima bustina gigante e vediamo chi c'è qua dentro. Triniamo fuori. Uh, va bene, prima il fan book abbiamo trovato il calamaro gigante. Vediamo se ci da qualche informazione. Sì, un sacco di informazioni e dettagli su questa forma di vita che per quanto sia strana ed assurda esiste veramente. Uh, si apre tutto il fan book. Qua vediamo tutti gli animali che vengono prodotti in questa serie e c'è un sacco da leggere, un sacco di informazioni che possiamo leggere. C'è l'italiano e c'è anche l'inglese, quindi è utile. Possiamo anche imparare un pochino di lingue, proprio come cerchiamo di fare noi di solito sul nostro canale. Per le bustine non lo facciamo, ma per gli altri video cerchiamo sempre di mettere un video in italiano e uno in inglese. Allora, mettiamo da parte il fan book e vediamo come il calamaro gigante. Uh, beh, gigante è la parola giusta. È enorme. Uh, beh, è bello. È bello, mi piace. Ci sono un sacco di tentacoli morbidi. Non è di gomma appiccicosa, è di gomma molto morbida, semplicemente, che lo fa un pochino più realistico, visto che si tratta di un calamaro gigante, con tutti questi tentacoli che sembrano dei baffi giganteschi. Se non sbaglio, la punta dei tentacoli del calamaro gigante dovrebbe avere delle punte. Credo che queste siano le estremità che possono fare del male alle prede, potrei dire delle sciocchezze, per carità. Questi sono i suoi occhi. Che ve ne pare del calamaro gigante? Uh, è veramente gigante, comunque si è. Non vorrei dire errori, però. È capace di essere lungo 30 centimetri, questo calamaro gigante. Ok. Mettiamolo qui e apriamo l'altra bustina. Qui c'è l'incisione. Procediamo. Vediamo il fanbook e ho trovato il polmone di mare. Beh, questa mia nuova non l'avevo mai sentita. Barrel Jellyfish. C'è anche il nome in inglese, vedete Giant Squid? Barrel Jellyfish. Barrel sarebbe la botta e il varile, quindi magari è un nome che viene dato da qualche tradizione legata ai pescatori, non lo so. E dentro troviamo alcune informazioni sul nostro polmone di mare. È velenoso, diametro massimo 80 centimetri e un sacco di cose da leggere. Allora, vediamo come è fatto il nostro mostriciattolo. Oh, sono proprio strani, decisamente diversi da come me li aspettavo. Oh, è realistico in qualche modo. Devo ammettere che è una collezione particolare. Cioè, se vi interessano queste creature, questa collezione è proprio particolare. Allora, il polmone di mare ha una consistenza strana. Dentro è stato riempito con tutta una serie di minuscoli pallini. Quindi è imbottito, vedete? Buof, buof. I tentacoli sono molli. Sia lui sia il caramello gigante sono in gomma molto morbida, ma non appiccicosa. Non sono viscidi o appiccicosi. Sono molto morbidi ed elastici. E sono anche colorati. Quando se li vedete qua ci sono delle sfumature rosa, azzurre. Mentre lui è realizzato in gomma trasparente con questi strani pallini bianchi dentro che servono a imbottirle e a dargli un po' di volume. Calamaro gigante e polmone di mare. Anzi, al contrario. Polmone di mare e calamaro gigante. Sono una collezione decisamente strana. Se vi interessano, penso che ci siano poche alternative in giro. È una collezione particolare su creature poco conosciute. Devo ammettere che mi ha sorpreso. Voi cosa ne pensate? Voi conoscevate il polmone di mare? Io non l'avevo mai sentito. Ciao!